La scuola di Becker è intermesso, non per la scuola. Che cosa? La rapetola si va di porta. Ecco giù la faccia, non ce l'avano mai contro di lui. Ma che giù? All'ultimo momento, la scuola di Sasson. La scuola della Lampo ha restato favorizzata dalla sorpresa. Il padrone però è solo cuorso e non vediamo che è stato riuscito a giungerlo. La scuola di Sasson è stata costruita da tutti i tuoi compagni, non puoi fallire. Certo che l'ultima possibilità che mi rimanga sia quella di tenere la roma sciata. Faccio una scuola di grande fatto e si risponde a definire il suo mio fratellito. La roma sciata. La scuola di Sasson è stata costruita da tutti i tuoi compagni. La scuola di Sasson è stata costruita da tutti i tuoi compagni. La scuola di Sasson è stata costruita da tutti i tuoi compagni. La scuola di Sasson è stata costruita da tutti i tuoi compagni. La scuola di Sasson è stata costruita da tutti i tuoi compagni.